La luna di miele è volata Ma cosa è successo? Sono venuti ladri Buco nella parete, piastrelle rotte Ciao ragazzi, avete visto? Ragazzi, vi ho sistemato l'impianto idraulico Oh grazie papà, sei un genio del crimine idraulico Ehi, genio, però il genio adesso rimette a posto la casa Anche tu vuoi rinnovare l'impianto idraulico di casa? Quest'estate dalle Ruamerland trovi tutti i prodotti e i servizi di cui hai bisogno Cerca le offerte su leruamerland.it Leruamerland, in caso di casa Kimbo, confia Leruamerland, in caso di casa